Il treno regionale, 45-41, di Trenitalia, proveniente da Avezzano, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 5.19, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carsoli, Arsoli, Roviano, Mandela Sambucci Valle della Niene, Tivoli, Palombara Marcellina, Guidoni e Montecelio Sant'Angelo, Bagni di Tivoli, Lunghezza, Ponte di Nona, Roma Prenestina. Il treno regionale, 45-15, di Trenitalia, proveniente da Sulmona, è diretto a Roma Termini, delle ore 7.22, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carsoli, Mandela Sambucci Valle della Niene, Tivoli. Il treno regionale veloce, 41-63, di Trenitalia, proveniente da Pescara Centrale, è diretto a Roma Termini, delle ore 7.23, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carsoli, Mandela Sambucci Valle della Niene, Tivoli. Il treno regionale, 45-60, di Trenitalia, proveniente da Roma Tiburtina, è diretto a Pescara Centrale, delle ore 9.04, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Avezzano, Sulmona, Chieti. Il treno regionale veloce, 41-65, di Trenitalia, proveniente da Pescara Centrale, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 9.30, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carsoli, Mandela Sambucci Valle della Niene, Tivoli. Il treno regionale, 45-68, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Avezzano, delle ore 9.31, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 45-42, di Trenitalia, proveniente da Roma Tiburtina, è diretto a Avezzano, delle ore 10.06, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Scurco la Marsicana. Il treno regionale, 45-53, di Trenitalia, proveniente da Avezzano, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 13.32, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni, eccetto, Salone, Larustica UIR, Palmiro Togliatti. Il treno regionale, 45-55, di Trenitalia, proveniente da Avezzano, è diretto a Roma Termini, delle ore 14.06, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sante Marie, Colli di Monte Bove, Carsoli, Oricola Pereto, Arsoli, Roviano, Mandela, Sambucci Valle dell'Aniene, Castelmadama, Tivoli, Palombara Marcellina, Guidoni e Montecelio Sant'Angelo, Bagni di Tivoli, Lunghezza, Ponte di Nona. Il treno regionale veloce, 41-64, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Pescara Centrale, delle ore 15.50, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Avezzano, Sulmona, Chieti. Il treno regionale, 45-17, di Trenitalia, proveniente da Sulmona, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 15.51, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carsoli, Roviano, Mandela, Sambucci Valle dell'Aniene, Tivoli, Palombara Marcellina, Guidoni e Montecelio Sant'Angelo, Bagni di Tivoli, Lunghezza, Ponte di Nona. Il treno regionale, 45-54, di Trenitalia, proveniente da Roma Tiburtina, è diretto a Avezzano, delle ore 21, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 45-56, di Trenitalia, proveniente da Roma Tiburtina, è diretto a Avezzano, delle ore 22, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie.